La Guardia di Finanza di Roma sequestra il patrimonio aziendale del porto turistico di Ostia. Sigilia le 19 società, di cui due di diritto inglese, che gestivano il porto e alcuni noti lì di Balniari, tra cui la cuna Matata e il Plinius. Nel corso dell'operazione soprannominata Ultima Spiaggia, i finanzieri del Comando Provinciale hanno sequestrato beni per un valore di 450 milioni, con oltre 530 unità immobiliari, tra esercizi commerciali, locali, box e stabilimenti. Le misure preventive sono state emesse dal Tribunale di Roma nei confronti del noto imprenditore romano Mauro Balini, coinvolto già in passato in varie indagini per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, emissioni di fatture false e riciclaggio. Confermati i collegamenti tra l'uomo e gli ambienti malavitosi che operavano sul litorale di Ostia, in costante vicinanza con i personaggi di notevole spessore criminale per gestire i profitti dell'attacco turistico. Il maxisequestro giunge al termine delle complesse indagini delle fiamme gialle, collegate con le recenti operazioni che hanno interessato i fenomeni criminali di tutto il litorale. Prove acquisite nell'operazione Tramonto, ad esempio, che ha smantellato solo qualche settimana fa il potente clan dei fasciani, e gemone a Ostia, o dei Senese e degli Spada. Organizzazioni e famiglie con cui Balini manteneva stretti rapporti e il centro degli affari erano i Lidi, come nel caso della gestione del chiosco Barra Cuna Matata, concesso a un prezzo irrisorio al pregiudicato Cleto di Maria. Curava inoltre per conto dell'imprenditore i servizi di sicurezza e vigilanza all'interno del porto, dove poi vi abitava in un appartamento. Tutti i patrimoni illecitamente accumulati negli anni da questi soggetti, considerati socialmente pericolosi, sono stati ora sequestrati. 450 milioni di euro è il valore stimato dei beni, tra cui compaiono 14 società, 430 immobili, 11 autovetture e anche un'imbarcazione.